messaggio urgentissimo per mattia fettri laura fettri sabra fettri e fiorenza fettri ragazzi hanno chiamato poco fa questi dell'asolo di milano vado a pigliar papà vi dovete prendere vostro padre perché non può stare in mezzo alla gente in queste condizioni e lo so è brutto un padre è sempre un padre però che mi fa o vi organizzate in qualche modo mettete una badante vicino pure a turno ho tenito i figli e adesso è pesante a trino su un mese a casa comunque per suo padre perché ieri sera ha fatto un altro guaio e si è collegato non so come la casa che non sapeva fare niente ha messo i figli indagato a scettare i figli non lo so in diretto con la televisione di milano dove presentava un altro capurno sabone infatti non mi devo dimenticare devo chiamare pure i figli chissà e prima di tutto si è fatto sotto un'altra cosa quindi non sperpeto cagnuva nulla metti ciò fa pavale poi vabbè ha detto una cosa a chi lo sa vuoi figurati sui meridionali curi e poi hanno scollegato la diretta che hanno visto la mala parata io ho cominciato a dire le cose tipo a sa che la vacca come che le mamme a mamma a mamma che innalucca e tutto era una fama uè uè a mamma che innalucca cioè sta cominciando a fare le cose che faceva due mesi fa prima della quarantena fuori bar quando lo sapete no papà sembra cava insieme agli amici suoi storici tu rubacchione ciccino mesareggio la situazione è quella che è anche il presidente dell'ultimo giornalisti carissimo presidente e lo so che tu hai fatto una cosa a fin di bene facendo aprire quel giornale che diciamo direttore di lì direttore di un giornale che non esiste no sappiamo che non lo dice nessuno un giornale a circuito chiuso ma mo secondo me ha maggior lavoro che il c'è libero ma chissà la mattacca direttore e se no tu sei presidente dell'ordine dei giornalisti diventi presidente del disordine dei giornalisti del buddello dei giornalisti mi sembri caso mi sembri caso ragazzi lo so eh lo voglio parte però per un momento che stai a mettere con lo puretti eh forse c'ho fettini a pezzo